L'imperativo è cancellare, l'ingiusto è Beffardo, Capò patito a Pesaro, tutto confermato dal primo minuto Boruzzi, De Marco che rimpiazza lo squalificato, squizzato e Merola, i Liguri non segnano 5 partite ma nell'ultime 4 gare esterne non hanno subito gol, 5-3-1-1 linee strette e compatte davanti l'ex Clemenza. Alle spalle di Parravicini subito questa azione personale di Cangiano, c'è la rispetta della portiera Anna Coura al sesto minuto, qui siamo al tredicesimo, grande opportunità per il Pescara, retro passaggio errato di Valentini, qui non c'è profondità, Vergani tenta il pallonetto, non inquadra lo specchio e questa è una chiara occasione da gol per Edoardo Vergani, tutto questo al quattordicesimo minuto del corso del primo tempo. Sempre 0-0 il destro di De Marco che ha sostituito, squizzato, squalificato con buoni risultati, una buona partita da parte dell'ex Vibonese. Poi 31esimo, 1-2 tra Cangiano e Merola, il destro di Cangiano che termina non di molto lontano dalla porta dell'Igure, qui all'inizio della ripresa chiarissima, palla gol fallita, sprecata da Podda. Da quinto a quinto il cross di Furno, il destro di Podda che un inquadra lo specchio dall'altra parte, ci prova Merola che si libera benissimo di un avversario e viene chiamato in causa Anna Coura, bravo in due tempi. A dire no all'esterno Biancazzurro ci sono i cambi che danno vitalità, verve e sprint all'attacco Biancazzurro, tutti davvero molto bravi. Ci prova Valzania, il tiro alle stelle dopo una ribattuta di un difensore del Sestri Levante, 77esimo, il pallone si infila alle spalle di Anna Coura che è evidentemente complice, calcia forte l'Eston, però insomma non è affatto irreprensibile il stesso difensore del Sestri Levante. 1-0 Pescara, qui Ferraris che recupera un pallone, lo mantiene vivo, sembrava destinato in fallo laterale, Pierozzi palla in mezzo, Ventivegna colpo sicuro, lo scalcia senza problemi, diciamo in modo evidente. Valentini ma l'arbitro non assegna il calcio di rigore che è sacrosanto, c'era anche l'espulsione per l'argentino e qui la grande azione personale di D'Agasso che fa tutto da solo, 40 metri di campo, palla al piede e poi viene fermato da Anna Coura. Quattro minuti di recupero, il Pescara non rischia nulla dopo quello spavento con Podda, inizio di ripresa, Pescara batte Sestri Levante 1-0, dunque riprende il cammino dopo l'ingiusto, immeritato KO di Pesaro.